L'associazione Apleti è ancora una volta in prima linea a favore dei bambini del reparto di oncoematologia. Esatto, noi in realtà abbiamo una nostra associazione, siamo un gruppo di sottufficiali dell'aeronautica, qui del comando scuole, con l'Apleti collaboriamo da anni a queste iniziative. Nella fattispecie con il personaggio di Babbo Natale riusciamo a catalizzare più interesse da parte sia dei bambini che delle persone che ci aiutano e ci permettono di raccogliere abbastanza soldi per portare, come abbiamo fatto quest'anno, nove PlayStation, una per ogni reparto, ogni istanza di questo reparto, dove appunto avevano già questi bei televisori, nuovi perché il reparto è nuovo. Con le PlayStation cerchiamo di dare più piacere possibile ai bimbi che stanno qui per lunghe degenze, purtroppo. Quindi non solo il Babbo Natale, ma anche l'Uovo di Pasqua per questi bimbi. Sì, diciamo che quest'anno è diventato Babbo Pasquale perché siamo arrivati in effetti con la donazione di Natale per motivi organizzativi, abbiamo dovuto far fare le custodie per le PlayStation, ci siamo procurati materiale, insomma, siamo arrivati sotto Pasqua. Quindi nove PlayStation per nuove stanze in modo che i bambini possano non contendersi i giochi. Esattamente, così ognuno ha il suo, può portarsi da casa, ci sono la Pletia, una bella libreria, anzi, in qualche occasione, se qualcuno ha dei giochi per PlayStation PS4 che non utilizza, è una cosa che potrebbero aiutare loro che magari hanno una scorta maggiore. Sono nove, quindi nove giochi girano.